Romina Pover, dai genitori alla vita con Albano Carisi prima di conoscere Albano e creare una famiglia con lui,Virgola Romina Pover e cresciuta con i suoi due genitori, ovvero gli attori cinematografici olivodiani Tirone Pover e Linda Cristian. Per i primi anni della sua vita ha vissuto negli Stati Uniti per poi arrivare in Italia. E proprio nel film Nel Sole, la cantante statunitense ha avuto modo di conoscere e lavorare con l'uomo che tre anni dopo sarebbe diventato il padre dei suoi quattro figli. Recentemente, la 70enne attraverso un post su Instagram, ha fatto sapere che ha ereditato una passione dal padre. Di cosa si tratta? Punto di domanda. La grande passione della cantante statunitense Romina Pover debutato al cinema alla tenera età di 13 anni e in quattro anni partecipò a ben 14 pellicole cinematografiche, interpretando, tra l'altro, alcuni ruoli erotici. E in una delle foto condivise sul suo account Instagram, la 70enne statunitense ha mostrato proprio il padre virgola Tirone Pover, in posa con un'auto d'epoca. Mio padre aveva una bellissima collezione di macchine antiche. Ho ereditato da lui la stessa passione, ha scritto con malinconia l'attrice e cantante americana. Ma non le colleziono, ha precisato subito dopo. Mio padre aveva una buona cosa. Ma non le collezione di macchine, la 80enne statunitense romana, ma non le collezione di macchine. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.